Dopo tre mesi di nuovi casi positivi al coronavirus, ieri per la prima volta le marchi hanno registrato zero contagi. È stata giusta quindi la previsione dell'osservatorio epidemiologico regionale, secondo il quale lo zero alternato si sarebbe verificato tra il 25 e il 30 maggio. Oggi è risultato positivo solo un test su quasi 800 campioni analizzati, a quanto pare però i numeri confortanti non sarebbero sufficienti ad allentare le misure anticontagio. Infatti, nonostante il bilancio più che positivo, è arrivato uno stop alla movida selvaggia. Da domani a Gavicce, Pesaro, Fano e Mondolfo sarà obbligatoria la mascherina. Una restrizione adottata su proposta del sindaco Ricci durante il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. L'obbligo sarà in vigore fino al prossimo 2 giugno. Che cosa ne pensate di queste nuove misure? Secondo me, comunque, vista la situazione, penso sia effettivamente il caso di renderla obbligatoria, anche perché comunque, cioè, il virus non è, diciamo, non è finita come cosa completamente e quindi per tutelare tutti, comunque, penso sia una buona idea. Sono d'accordo con lei, vedo che molti ragazzi sono, la prenderò molto alla leggera. Durante la riunione convocata dal prefetto Vittorio Lapolla è stato previsto un aumento di controlli. Il compito di vigilare su giovani e adulti spetterà all'esercito, carabinieri, polizia di Stato e vigili urbani. Previste anche pattuglie fisse in diverse zone della città. Gli agenti della municipale amplieranno l'orario di lavoro. Inoltre, questa mattina c'è stato un comitato tecnico in questura per decidere quali zone presidiare, ovvero quei luoghi in cui si prevede una maggiore aggregazione di ragazzi. Attiveremo la pattuglia notturna già da questo weekend lungo. Quello che abbiamo già individuato stamattina sono tutte le zone del lungomare, Arzilla, Lido, Sassonia, Torrette e anche Fano Sud, quindi naturalmente tutto il lungomare viene considerato zona da presidiare e particolarmente il centro nella piazza. Per cui in queste zone, con un'ordinanza che stiamo andando a predisporre, ci sarà l'obbligo appunto della mascherina, per cui si ha la socialità, però con le giuste attenzioni. Quindi io faccio un appello anche a tutti i giovani e meno giovani, perché sono anche meno giovani a volte che sono un po' disattenti, ad utilizzare la mascherina o comunque mantenere le distanze di sicurezza. Attenzione dunque agli assembramenti e a togliere la mascherina solo per bere e mangiare. In caso di inosservanza delle disposizioni potrebbe scattare una multa da 400 euro. Voi cosa ne pensate? Ah sì, certo, ci vuole la mascherina assolutamente, soprattutto nei posti chiusi. Entrambe le soluzioni sono utili allo scopo, quindi sia la mascherina che mantenere le distanze è necessario. Sono molto vicina, la gente è molto vicina e penso che sia una misura preventiva valida, sì. Tanto è che la rispettino poi. Non so, per esempio questi giorni a Lido era un putifere, guarda, un casino, guarda, non poteva passare neanche una pattuglia di macchine perché... C'eravano pazienti? Sì, tantissima, ma poi con le mascherine tirate giù qua, capito? Grazie.